Buongiorno, ci saranno i re, ci saranno i profeti, ci saranno i profeti che dovranno stimolare il re. Il tema di questo nostro incontro, così come è stato immaginato da Torino Spiritualità, è il cuore e l'intelligenza nella funzione del governare. Io direi che siamo veramente in un momento storico in cui il problema del governare è un problema che è giunto ad una sua criticità enorme, lo vediamo nelle nostre società, quella francese, quella italiana, lo vediamo soprattutto nel governo del mondo con quello che sta accadendo. Ecco, Marek, cuore, intelligenza, governo. Mi pare soprattutto che manchi il cuore in questo momento. Parlerò in francese. Buongiorno a tutti. Spero che molti di voi capiscano, altrimenti ci sarà la traduzione. C'è un problema che non è neuf. Questo non è un problema nuovo. Penso che gli organizzatori del dibattito si siano ispirati al re Salomone. E già il re Salomone, per primo, aveva durante la sua vita evidenziato e capito quale fosse la contraddizione fra questi due elementi. La Bibbia ha tutto prevato. Non so se... Non vale la pena di rilire, è un molto bello libro. Nella Bibbia, in realtà, ritroviamo tutto. È un bellissimo libro, vale la pena rileggerlo. Quando gli ebrei entrano nel paese di Israele, sono organizzati in una sorta di governamento autogestionario. Quando gli ebrei entrano nel paese di Israele, erano organizzati in tribù. E erano organizzati anche con una sorta di autoguverno. E questo finché i grandi capi tribù vanno a Rama a cercare il re. E vanno da Samuel e dicono vogliamo un re. Allora, il dice, perché volevi un re? Non siete bene così? Perché volete un re? Non state bene così? Perché tutti i popoli autour di noi hanno dei roi. E la risposta è che tutti i popoli che ci circondano hanno un re. E là, c'è un passaggio magnifico nella Bibbia. Samuel explica a questo chef delle tribù quale è un re. E nella Bibbia troviamo un passaggio magnifico. E Samuele che cerca di spiegare appunto ai capi tribù che cosa significa un re, che cos'è un re. Qu'è ce che vuol dire un po' voir politico? Quindi qual è il significato del potere politico? Il va a vous écraser sull'esempore. Noi connessons ça. E dice, attenzione perché vi schiaccerà sotto le tasse. Noi sappiamo bene cosa vuol dire. Il va a prendere i vostri figli per fare delle guerre. Il va a prendere i vostri figli per fare delle guerre. Il va a prendere i vostri figli per fare delle guerre. Il va a prendere i vostri figli perché vanno a servire. Il va a controler la vostra libertà, la vostra expression. Il potere politico controlerà la vostra libertà, la vostra libertà di expression. Ma le Juif dite, noi vogliamo un re. Però gli ebrei dicono, no, vogliamo un re. Allora, il era di d'accordo. Il n'ha pas dit d'accordo. Il demande d'abord a Dieu. E Dieu dit, il n'ha pas dit avec ces mots. C'est la démocratie, le peuple veut. Tu leur donnes ce qu'ils veulent. Samuel dice, d'accordo, anche se non si esprime ovviamente a parole. Si rivolge a Dio, chiede a Dio. Il popolo vuole il potere politico. Va bene, diamogli quello che vuole. Alors Samuel ha dit, je vous propose d'aller dans la montagne. Vous trouverez là-bas un berger, qui est un homme sage, juste. Il s'appelle Saül, et il sera votre roi. Quindi Samuel dice, vabbè, allora, vi propongo di andare, andate alla montagna. Lì troverete un pastore, un saggio, che si chiama Saül. E c'était le premier roi d'Israël. Et quand vous allez à Paris, pour ceux qui vont à Paris, vous allez voir la cathédrale Notre-Dame de Paris, l'un des plus fameuses du monde. Victor Hugo a fait un livre. Sur la façade, il y a 28 statues. Ce sont les 28 rois d'Israël des Judées. Et la première, c'est le roi Saül. Et, appunto, Saül diventa, quindi, il primo roi d'Israël. Et, si vous allez à Paris, vous verrez, sur la façade de Notre-Dame de Paris, de qui a parlé aussi Victor Hugo, dans ses livres, vous verrez 28 statues. Ce sont les 28 rois d'Israël. Le premier, c'est Saül. Mais, Samuel, dans sa sagesse, c'est grâce à Dieu, je ne sais pas, a compris qu'il ne peut pas avoir un roi juste. Mais, si Samuel, dans sa sagesse, fûtait-il d'Israël de Dieu, sapeva, il ne peut pas avoir un roi juste. Ce n'est pas un problème de cœur, c'est un problème d'exigence de la situation politique, économique. Et, ce n'est pas un problème de cœur, mais un problème politique, un'esigence politique et économique. Que les peuples juifs ne sont pas seuls, il y a d'autres peuples qui, peut-être, leur voudront faire la guerre. C'est tellement moderne tout ça. Alors, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a créé une école des profètes. Et donc, ce n'est pas fait ? Samuel a créé une école des profètes. Préparé des gens capables d'interpeller le pouvoir. Donc, il a préparé une série, des personnes, appunto, qui s'étaient en grade d'interloquir, d'interloquir, d'interloquir avec le pouvoir. Il a compris qu'un peuple ne peut survivre, qui est dans un équilibre entre le pouvoir politique et le pouvoir morale. Les deux ne vont pas ensemble. Et Samuel, donc, avait capité que un peuple ne peut survivre si ne trouve une sorte d'équilibre entre le pouvoir politique et le pouvoir morale. Deux pouvoirs qui continuent à rester stacqués. Le profètes en ébreu veut dire «Nabi ». Nabi. Nabi. N-A-V-I. Nabi. Donc, le profètes en ébreu se dit «Nabi ». Dans le 70, la traduction grecque qui a été faite sur les Ptolomées et Alexandries, ils ont mal traduit le mot. Ils ont appelé «profètes ». Ça veut dire quelqu'un qui prévoit l'avenir. Or, en ébreu il y a un autre mot pour ça. Ça veut dire «roé ». Qui prévoit. Or, Nabi ne prévoit rien. Il dit. Appunto, nella Septuaginta, in realtà, il termine di, il termine profeta è stato tradotto come profeta, come colui che prevede. Invece, in ebraico, Nabi non vuol dire prevedere, vuol dire vedere. Mentre è stato, invece, era stato tradotto come «roé », colui che prevede. Ça vient du mot accadien «nabu » qui veut dire «le cri ». Ce sont des hommes qui crient. appunto, questo termine deriva dal termine dell'accadia «nabu » che significa «colui che grida ». Quindi, i profeti devono essere coloro che gridavano. Et je vous assure que c'est très, très difficile de crier face au pouvoir. Et je vous assure que c'est vraiment très difficile de crier quand on est confronté au pouvoir. J'ai dit plusieurs fois à la télévision en France «essayez d'aller sur une place publique et crient. Personne n'oserà. » L'ho detto anche spesso la télévision in Francia «Provate ad andare in un luogo qualsiasi a gridare et chiedete anche che qualcuno venga a gridare e non ci sarà mai nessuno che lo fa. » Pas seulement parce qu'il sera arrêté par la police parce qu'on penserà qu'il est fou mais lui-même même s'il a beaucoup de choses à dire il n'oserà pas. Et pour terminer pour répondre à votre question courte j'ai fait très long je suis désolé. Un exemple quand j'ai sorti ma trilogie sur les femmes de la Bible j'étais invité à la première chaîne de télévision en France pour en parler à une heure de grande écoute. dans la voiture j'ouvre la radio et j'apprends qu'un groupe d'antisémiti de raciste a martyrisé et tué un jeune juif parce que juif Ilan Halimi. Et j'étais bouleversé Et quand j'ai sorti sur le plateau devant la caméra j'ai dit aux journalistes c'est gentil de m'avoir invité pour parler de mes livres mais j'ai envie de crier de colère. Et très gentil ils m'ont dit «Criez ! » Alors je m'y suis adressé à des milliers d'individus qui nous regardaient et aux gens qui étaient autour de nous je leur demande «J'espère qu'ils vous savaient crier ! » Alors les gens autour de nous répondent «Oui ! » Alors j'ai dit «Voilà, je vais faire un, deux, trois ! » Ils disent « D'accord ! » Alors je leur dis « Contre la bêtise, contre la violence, contre l'antisémitisme, un, deux, trois ! » Et on a tous poussé un cri. Ça m'a coûté très cher. J'ai tremblé d'émotion. «Qu'est-ce que ça ? » «Qu'est-ce que ça ? » «Qu'est-ce que ça ? » Cremavo per l'emozione, per la fatica. Ma, in sortita della televisione, faceva tardi, le persone arrattavano la sua voiture per mi dire, Michel Alter, noi abbiamo criato con voi. Però poi, all'uscita della trasmissione, le persone, anche se era molto tardi, mi fermavano sull'auto e mi dicevano, signor Alter, io ho gridato con lei. E, ritornato a casa, ho ritrovato nel computer, nella registrazione, la foto di Charles Aznavour, un amico, che stava gridando anche lui. Non l'ho mai ripetuto, però, da quella volta. Forse non ho mai avuto la possibilità di farlo, forse non ho più trovato il coraggio di farlo. E quindi, per finire, è vero che noi abbiamo dei politici di cui abbiamo bisogno per gestire la società contemporanea, sconosciamo i problemi, la disoccupazione, l'educazione, la sanità, però, mentre abbiamo tanti politici, non abbiamo più profeti. Grazie, molto bello, perché in questa prima risposta Marek ci ha dato una sintesi del suo temperamento, dell'idea che ha del ruolo dello scrittore, dell'intellettuale, dello studioso che è della Bibbia, di quest'idea di tenere insieme il filo tra la storia, il passato, il presente, sulle grandi questioni, sugli archetipi, sulle cose che fanno davvero una società, sullo scontro, sui conflitti. La storia che lui ha citato di Ilan Alim, questo ragazzo parigino che è stato rapito soltanto perché Ebreo è una storia che in Italia è poco conosciuta, ma che è una storia veramente esemplare di odio, di stupidità, di stereotipi, di un malessere profondo che c'è nella società francese, ma io direi forse in tutta la nostra società. Ecco, Marek, come dicevamo, interprete, ha interpretato il suo ruolo di intellettuale, di scrittore, sentendo dentro di sé questa necessità di gridare e poi ci ha confessato lui stesso che non sempre riesce a farlo. Vedo che qui ha il libro, uno degli ultimi suoi libri che è uscito, che in Francia è intitolato Fait le, fatelo, fate qualcosa. Ecco, lui ha finito dicendo, ha finito la prima risposta dicendo non ci sono più profeti, non ci sono più intellettuali che gridano, però continuano ad esserci dei politici che fanno, che esercitano il potere. Ma perché non ci sono più intellettuali che gridano? Forse la risposta peggiore saprebbe quella che danno tutti quando intervistati alla televisione, cioè, ottima domanda. non ci siamo resi conto però, il mondo è cambiato in brevissimo tempo. per agire bisogna avere un'idea del futuro, un sogno per il proprio futuro. E a noi ormai mancano i sogni. a l'epoca di mio padre, di mio grand padre, aveva delle ideeologie, delle idee di cambiare le mondo, comunismo, socialismo, fascismo, conservatismo, libéralismo. Mon grand-père Abraham, a Varsovie, è un giro religioso, le chapeau, barbe, papillote. E il primo mai, il era nel sindicato dei imprimi e il manifesto a Varsovie in la rata in cantare l'international in idice. En dehors di dieci, il croyo poter cambiare le mondo ici, ora. Appunto, quello che a noi manca sono le ideologie che i nostri padri, i nostri nonni avevano, quindi un sogno di cambiare il mondo attraverso dei sogni e delle ideologie. Mio nonno Abraham a Varsovie era religioso, un praticante, la barba, come si deve, era iscritto al sindacato degli tipografi e tutti gli anni il primo maggio lui andava a cantare in idish l'internazionale. Oggi l'espoir di cambiare il mondo non esiste più. Il resto è Dio. Lui è immortale. E oggi appunto questa speranza di poter cambiare il mondo non c'è più, rimane solo Dio che è immortale. ciò posa un problema. Noi non possiamo parlare nel nome di Dio. Noi non possiamo parlare nel nome di Dio. Il problema è che poi però non possiamo parlare nel nome di Dio, possiamo parlare solo nel nome degli uomini. Allora c'è chi parla nel nome di Dio. e ci sono anche persone che uccidono il nome di Dio. E non sono sicuro che abbiamo trovato la risposta. C'è un vero problema. Ho avuto il qualche anno una delegazione d'imam per vedere il Papa François. Quindi questo è un problema. Alcuni mesi fa l'avete forse letto visto la televisione ho letto nei giornali io ho guidato una delegazione d'imam da Papa Francesco. Perché io lavoro con quello c'è. C'è la religione quindi utilisco la religione. L' obiettivo c'è di far vivere le più pesibili possibili insieme. Io lavoro con quello che c'è quindi la religione esiste io mi appoggio mi servo della religione ma qual è l'obiettivo? L'obiettivo è quello sempre di far vivere le persone nel modo più pacifico possibile. Noi abbiamo parlato con il pape noi parliamo in spagnolo perché siamo conosciuti quando eravamo a Buenos Aires potete non eravamo persuasivo ma non ascoltato e quindi siamo andati a parlare con il pape io parlavo spagnolo l'avevo anche già conosciuto a Buenos Aires però forse non siamo stati abbastanza convincenti non ci ha ascoltato d'altronde il papa non è obbligato per forza ad ascoltare un ebreo ad esempio mi sembra che la sua ultima risposta non sia corretta penso che non sia il papa dover dire che bisogna combattere la violenza musulmana dei musulmani c'è chi vuole le jane di califa le jihadist c'è giustamente una guerra di religione in effetti quelli che sostengono il califato e i jihadisti vogliono proprio questo vogliono una guerra di religione sperano aspettano la condanna del papa per l'instant sono minoritari nel mondo di 1 miliard 300 milioni di musulmani per ora sono ancora una minoranza in un mondo costituito da un miliardo e 300 milioni di musulmani però se riuscissero a dimostrare che il mondo cristiano si coagula contro di loro anche loro riuscirebbero probabilmente a creare un blocco di musulmani blocco unico nella comunità musulmana a la place del papa j'aurais invité tous les dignitaires musulmans d'Alasra d'Arabia Saudita au Vatican pour montrer que nous pouvons nous serrer la main fossi stato io al posto del papa avrei invitato piuttosto tutti i dignitari in Arabia Saudita in Vaticano proprio per vedere che ci si può stringere la mano je ne peux pas aller place Saint Pierre pour crié parce que je ne suis pas un profeta però non posso andare certo in piazza Saint Pietro a gridare perché non sono un profeta un petit idée quand j'ai entendu le discur d'Obama quand il a justifié l'intervenzione americana en Irak son discur m'a fait penser a quelque chose je ne savais pas exactement quoi ho un idée però ho ascoltato il discurso d'Obama quand sosteneva l'intervento americano appunto il suo discurso seguendolo mi a fatto venire un idée mi a fatto pensare a qualcosa et au bout des nuits je m'y sou souvenir il y'a presque mille ans le pape urbano 2 quand son discur a clairement quand il a lancé la première croisade il a dit la même chose dopo una notte in cui ci ho pensato a lungo mi è venuto in mente un personaggio di mille anni fa il papa urbano secondo che ha detto esattamente le stesse cose quando ha lanciato la prima crociata qu'est-ce qu'il a dito il a fait appel a tous les rois et prix d'umanisme pour combattre la barbaresque et sauver les chrétiens de quindi lui cosa ha lanciato un appello a tutti i re che si potevano definire umanisti contro la barbarie e a favore dei cristiani d'Oriente ça prouve quoi ça prouve che nous avons a votre sujet nous avons des hommes politiques qui ont le coeur qui sont sensibles alla mort des gens qui sont émus qui veulent réagir mais ils connaissent pas assez l'autre pour savoir comment réagir ils n'ont peut-être pas l'intelligence et comme il n'y a pas de professe c'est un vraiment c'est un grand problème Allora, Marek invece, che è ebreo, che è un intellettuale ebreo, che è impegnato, che ha tutta la sua storia familiare, è un uomo, un intellettuale che si è messo a studiare e si è messo in condizioni di conoscere l'altro. Ci sono state mille, nella sua vita ci sono state mille occasioni per dimostrare questo. E questo incontro poi alla fine non ci fu. E quindi lì c'è stato un momento che racconta e che spiega forse quello che lui ci diceva adesso di questo atteggiamento del Papa. Ecco, essendo Marek una persona che ha studiato e che vive, che cerca di mettersi dall'altra parte, quello che non fanno i politici, come lui ci ha detto adesso, e reagiscono in questo modo straordinario a questa coincidenza di parole tra Urbano, il Papa Urbano e Obama. Ecco, però qual è la differenza di questa guerra di oggi rispetto al passato? Prima ne parlavamo e Marek diceva cose molto interessanti. Qual è la differenza del califato, di quello che si sta profilando, di quello che sta succedendo là con questo Stato che ci appare così terribile, così violento, rispetto per esempio alla guerra di Obama di dieci anni fa? La questione è importante, potrebbe dire una bittura, e penso che là anche noi abbiamo cambiato l'epoca. E' una questione questa molto importante, non vorrei dire neppure io delle sciocchezze, comunque probabilmente abbiamo, è cambiata l'epoca, sono cambiati i tempi. Penso che i nostri dirigenti politici abbiano capito quale fosse il pericolo, ma non hanno saputo farne un'analisi. Bin Laden era un terrorista classico. Depuis Nietzsche e Dostoevsky, in passant par la lotta continua, le Brigade Rouge, i terroristi non hanno mai pensato di poter cambiare e di voler, non hanno mai voluto cambiare la società. E sapevano benissimo che la democrazia è un sistema molle, la si può colpire, ma riprende, riparte. E avevano capito benissimo che per risolvere il problema bisognava far sì che la democrazia diventasse dura in modo da poterla combattere. Obbligare la democrazia ad introdurre la tortura. Ad esempio fare in modo che la democrazia, che in uno stato democratico venisse ammessa la tortura. La violenza, l'escucho telefonico, tutto ciò che non è democratico. Quindi la tortura, dicevamo, le violenze, la clandestinità dell'ascolto del telefono, e quindi tutto quello che è antidemocratico. Quindi in un certo modo ben laden ha vinto. Io vi ho parlato tutto a l'ora, quando voi prendere l'avion, voi vedete che ben laden ha vinto. Voi dovete arrivare due ore avanti, anche se il tragete è d'un'ora. On vous enlève vos parfums, vos flacons, on vous enlève vos chaussures, vos ceintures. Il ne faut pas porter des soutien-gorges renforcés. On enlève le jaquette, demain on va enlever vos pantalons. Dans certains pays on vous fait entrer dans une machine qui tourne, on vous voit nu. Ça c'est ben laden. Si capisce benissimo che bin laden ha vinto, basta andare in aeroporto per prendere un aereo, e lo si capisce subito, bisogna andare almeno due ore prima, anche se poi il viaggio dura un'ora. Vi chiedono di togliere tutto, non potete portarvi dietro i flaconcini di profumo, vi fanno togliere le scarpe, la cintura, se avete un reggiseno rinforzato anche questo crea un problema. Dovete togliervi la giacca, un domani probabilmente ci chiederanno anche di toglierci i pantaloni. Dopodiché in molti paesi vi fanno passare anche in una di quelle macchine dove praticamente vi vedono nudo. Bin laden ha vinto. Aujourd'hui, sauf que les méthodes avaient leurs limites. Qu'est-ce qu'ils pouvaient faire plus que détruire les deux tours à New York ? C'était le summum. Ils ne pouvaient pas nous détruire. Però, i suoi metodi avevano un limite. Oltre a far saltare le deux tours à New York, che cosa avrebbe potuto fare ? Non avrebbe certo potuto distruggerci. Il a donc fini sa vie dans la banlieue d'Islamabad, où il regardait les films des guerres américaines avant que les américains viennent les tuer. E quindi, cosa gli è rimasto ? Gli è rimasto di andare a finire la sua vita nella periferia d'Islamabad, dove passava la giornata a guardare i film di guerra americani, e dove poi gli americani sono andati e l'hanno ucciso. L'idée d'Al-Baghdadi est une idée plus dangereuse. Invece, l'idée d'Al-Baghdadi est plus pericolosa. Lui l'ha une ideologie. Perché lui a une ideologie. A un projet de société. A un projet de société. Le califat est basé sur l'idée universelle, disons, de Saint Paul. Et il califat est basé sur une idée universelle, quelle de Saint Paul. Qu'est-ce que disait Saint Paul ? Il y aura un moment où il n'y aura plus d'hommes, plus de femmes, plus de grecs, plus de romans, plus de juifs. On sera tous des hommes. Et il dit la même chose. Sauf que pour eux, tous les hommes, ça veut dire musulman. Quindi, anche lui, dice la stessa cosa, salvo che per lui, tous les hommes signifiquent tous les musulmans. En vérité, il ne dit pas qu'il veut tuer les chrétiens et les juifs. Il dit qu'il veut que tout le monde s'é converti, alors il n'y aura plus de frontières. L'idée est belle. Un monde sans frontières. In realtà, lui non dice che bisogna uccidere tutti i cristiani o tutti gli ebrei. Dice semplicemente che tutti dovranno convertirsi. E questo farà sì che non ci saranno più frontiere. L'idea in sé è bellissima. Un mondo senza frontiere. On sera tous des musulmans. Soumis à Dieu. Musulmans veut dire soumis. Soumis à Allah. Saremo quindi tutti musulmani. E musulmans vuol dire sottomessi ad Allah. L'idea in soia, contrairement, ça nous horrifie quand on voit qu'on décapite les gens. Mais oublions une seconde et écoutons ce qu'ils disent. Ce n'est pas par hasard. Ben Laden n'a pas mobilisé des milieux de jeunes français, italiens, américains ou anglais. Eux, ils mobilisent des jeunes français, mille jeunes français sont allés combattre pour le jirak. Pourquoi ? En quoi c'est attrayant ? Et donc, l'idea in sé est intéressante, même si nous sommes inorridites, surtout si nous avons de fronte à nous l'immagine des personnes qui sont states rapites et décapites. Bin Laden non riusciva a mobilitare, comme invece si a... Adesso, si vede adesso migliaia di personnes, di giovani, soprattutto francesi, et anche americani. Adesso ci sono... Risulta que almeno mille francesi si sont unités à la jihad. Donc, pourquoi ? Com'est-ce que tu réussis à coagulare cette attenzion, surtout aux jeunes ? Là, se pose la question. Qu'est-ce que nous avons à opposer comme rêve au rêve d'un monde des hommes et des femmes égaux, au nom de l'islam, au nom d'Allah ? Qu'est-ce que nous avons à proposer ? Rien. D'où je comprends les sentiments des papes François. Il se dit, je suis le seul à pouvoir dire quelque chose. Mais en le disant, il risque de provoquer la guerre des religions. Donc, nous, que que possible ? Opporre à cette proposition de Al-Baghdadi, à ce rêve ? Le rêve d'un monde où tous les hommes, les hommes et les femmes, sont les mêmes, en nom de Allah et de l'islam. Nous n'avons rien à proposer. Et je comprends aussi le peso que se trouve sur les spalles du Papa Francesc, que c'est l'unique qui se sentait de pouvoir dire quelque chose. Mais que quelque chose d'un risque de créer, puis de faire scoppiare, une guerre de religion. Et alors, comment peut-on répondre l'Occident, en un autre différent que non avec l'appel à la crociation, ou avec la guerre de religion ? Vous savez, nous faisons la politique, la philosophie du café, on dit. On s'est réunis entre amis dans les cafés et on cherche des solutions. Je ne dis pas que ma solution est une solution philosophique majeure. Je pense que la réponse est dans l'islam lui-même. Il y a une semaine j'étais au Maroc. C'était le premier pays musulman où j'ai présenté mon livre Khadija, qui est notre chère traductrice. C'est le premier volume de la trilogie sur les femmes de l'islam. Et j'ai vu, j'étais invité à déjeuner par le gouvernement marocain. Ils m'ont posé la même question. Et je leur ai dit que le Maroc a donné l'exemple. Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand il y avait les pères de ce roi, il y avait un problème des Saharas, avec les Saharouis, qui réclamaient l'indépendance par rapport au Maroc. Son père a fait appel au peuple. 500 000 marocains avec des grands étendards verts ont fait une marche vers les Saharas pour dire c'est un an. Une semaine fa, j'étais en Maroc, où j'ai été le premier pays musulmane, où j'ai pu présenter mon dernier livre, Khadija, qui est la histoire de la première moitié de Mahomet, et c'est aussi le premier volume de la trilogie que j'ai déjeuner aux femmes de l'islam. Donc, j'ai été à prance avec eux, avec les représentants du gouvernement, et ils m'ont fait la même question. J'ai pensé, appunto, que le Marocco, et j'ai dit leur que le Marocco, selon moi, est un pays esemplaire, en ce sens. J'ai pensé, addirittura, quand le père, de l'attuale re, a affronté le problème du Sahara, que voulait l'indépendance, les Saharouis, qui voulaient l'indépendance, et lui avait, appunto, lancié un appello à toute la population. Così, centomila Marocchini erano andati a marciare con l'insegna del paese per reclamare il Sahara. Quand j'ai repris l'avion pour entrer à Paris, c'était impressionnant. Il y avait des milliers de milliers marocchins habillés de blanc qui se préparaient pour prendre des avions pour faire le pèlerinage annuel de l'Amérique. Et quand j'ai repris l'aéreo pour retourner à Paris, j'étais vraiment colpito par la présence de milliers et de marocchins tous vestiti de blanc qui stavano partendo pour la Mecca pour le pèlerinage annuel. Ils sont tous habillés en blanc pour savoir pourquoi ? Pour qu'il n'y ait pas de différence entre les riches et les pauvres. Tous ces go face à là. Une belle idée. Et sapete pourquoi sont tous vestiti tous de blanc ? Proprio parce que di fronte à là non ci devono essere differenze. Ricchi et poveri sont tous uguali. Alors je me suis mis à rêver. A la Mecca il y aura à peu près 3 milions de pèlerinage. C'est impressionnant. Nous voyons ça à la télévision autour de la Caba. Cette masse de 3 milions d'individus tourne 7 fois. Et je me suis mis à rêver si on leur donnait des grands drapeaux verts et on les faisait faire la marge vers l'Irak c'est pas loin. Pour se mettre en face des djihadistes et dire stop. Qu'est-ce qu'ils auraient fait les djihadistes ? Ils auraient tiré dans la foule ? Ça aurait été fini. L'objectif ça doit être ça. Ce n'est pas nos soldats, ce n'est pas les chrétiens, ce n'est pas les juifs, ce n'est pas les laïcs qui doivent combattre ça. C'est l'Islam qui doit le combattre. C'est-à-dire ? Appunto, mi sono messa a sognare di fronte a questa incredibile immagine e ho pensato a questo. Alla Mecca appunto, ogni anno vanno almeno 3 milioni di pellegrini. È un'immagine impressionante, la si vede a volte alla televisione, 3 milioni di persone che girano 7 volte intorno alla Kaba e ho cominciato a pensare ma se dessimo ognuno di questi pellegrini una bandiera verde e chiedessimo che marciassero come marciano lì per manifestare contro l'Iran e contro soprattutto i jihadisti dell'Iran, cosa farebbero questi ultimi ? Non potrebbero certo tirare contro la folla ? Questa è la risposta secondo me, non devono essere i nostri soldati dei nostri paesi cristiani o ebrei neppure i lalci e l'islam che dovrebbe combattere il terrorismo e l'estremismo islamico. Per questo bisogna connaître l'altro. Nous viviamo dans un mondo democratico, non ne so per quanto tempo, ma c'è un prodotto chrétien. C'è la vérité. On peut dire judéo-chrétien, che significa che che sistema è un risultato dell'inidia che anima i parenti, i grand-parenti, arrivi, i grand-parenti, la chinoise, la bouddhiste, etc. e dire non la nôtre è la meilleure noi non ne pouvons pas il faut che sia surgi da l'intérieur della propria civilizzazione ma per questo, il faut la connaître vous savez, il y a per Mahomet il y avait un mot il più terribile, c'était la fitna c'était quand les croyants tuent d'autres croyants ils ne le savent pas ils ne le savent pas c'est-à-dire qu'on parle des darts à l'islam le monde de l'islam ce qu'ils font, les djihadistes ils essaient d'imposer l'idée d'islam au monde face au monde des darts à l'islam il y a le monde de la guerre nous, c'est le monde de la guerre c'est-à-dire que ceux qui n'acceptent pas l'islam donc c'est la confrontation entre les deux or, il y a un troisième monde qui Mahomet a introduit d'art et le solde le monde de la réconciliation ça veut dire au lieu de venir avec nos théories et notre morale on peut très bien aller les voir et au nom de leur propre morale mobiliser des millions et des millions d'individus on ne les fait pas pourquoi ? parce que nous ne la connaissons pas je vous donne un exemple mes livres en général se vendent à 120 150 000 exemplaires la trilogie sur les femmes de la Bible 500 000 Marie 150 000 mais chacun connaît un petit peu ses lecteurs ça va ? oui peut-être que vous terminez d'accord allez-y j'y vais alors il y aura un suspense quindi appunto si lasciamo il suspense e allora appunto per fare questo quindi per far sì che sia il mondo islamico che cambia al suo interno bisogna conoscere noi dobbiamo conoscere gli altri noi ci consideriamo un mondo democratico forse non tutti i paesi e noi stessi siamo il prodotto della nostra civiltà dei nostri padri dei nostri antenati siamo gli eredi di quella che è stata la nostra civiltà però non possiamo andare noi con questo patrimonio acquisito dai nostri antenati a dire a un altro popolo a un'altra civiltà noi siamo migliori questo pensiero deve essere deve diciamo svilupparsi all'interno di ogni comunità però per fare questo per riuscire a suggerire agli altri ad arrivare a questo bisogna conoscerli e Mahometto parlava della fitna che è forse il termine il concetto più duro più difficile da capire cioè quando il credente uccide un altro credente della sua stessa religione e appunto cosa cosa vuole la jihad nel mondo islamico vorrebbe imporre l'idea dell'islam agli altri agli altri alle altre civiltà però il problema è che noi non conosciamo appunto bene l'islam e l'idea dell'islam e noi di fronte all'islam rispetto anche a quello che ha detto Mahometto siamo l'altro mondo l'altro mondo da combattere però Mahometto ha anche una terza proposta di mondo che è il dare al sol cioè il mondo della riconciliazione per cui a nome di questa idea esiste questa possibilità di mobilitazione che deve però arrivare dall'interno e la possibilità di mobilitare a questo punto migliaia di persone all'interno della civiltà e della comunità islamica i miei libri vi faccio un esempio sono stati venduti a migliaia di coppie soprattutto la trilogia sulla Bibbia 150.000 coppie ad esempio il libro su Maria quindi ogni scrivano ha un po' il pubblico allora io sai che i primi che in generale achetano i miei libri sono dei giuri perché i se riconoscono in mio accent per esempio io parlo 10 langhi tutte le lingue con il stesso accent quindi il y a un'empathione un'identificio or quando ho storia, 2000 anni dell'histoire del popolo juif ma là loro pensano che non è l'erre l'erre, or c'è l'erre dell'erre voisin io mi sono innervato un giorno a la televisione israeliana io parlo l'hébreo quindi è facile perché ho apprito che la lingua arabe non è necessario in le scuole israeliana è davvero è terribile on mi ha detto, sì, ma on può choisire non è una question di choice come l'anglai, come l'italien, come le franzai ce sono i vostri il faut les connaître per poter fare la paix il faut savoir leur parler dans leur langue come io le chiedo di parlare in l'erre savoir quelle è l'erre l'erre il y aveva un gran poeta palestinien Mahmoud Darwish j'ai demandé qu'on le traduise in hebreu donc ce manque d'intérêt pour l'autre altro c'est important dans la psychanalyse qui è l'autre l'autre in parte c'è moi bien sûr puisque nous sommes tous faits à l'image du même et ça ça m'énerve beaucoup et un des obstacles c'est ça obstacle pour même si on doit faire la guerre à quelqu'un il faut relire des pages de Tolstoi guerre et la paix extraordinaire il y a des pages où il raconte les préparatifs de la bataille de Borodino alors bisogna appunto quando decido io stesso di scrivere i miei libri prima di tutto cerco anche di capire quale può essere il pubblico e in effetti quasi sempre quando io scrivo dei libri li pubblico i primi lettori che comprano i miei libri sono degli ebrei a volte riconoscono addirittura il mio accento anche quando parlo altre lingue ne parlo dieci però tutte con lo stesso accento e loro mi riconoscono quindi si crea una forma di empatia di identificazione sempre questo tra lo scrittore e i propri libri quando ho scritto e pubblicato invece Khadija nessun ebreo l'ha comperato perché? perché non si consideravano interessati colpiti nel loro interesse da questo libro una storia che non li riguardava non era una cosa che li interessava Maria il libro su Maria oppure Abramo questo faceva parte della loro storia invece Khadija non rientrava in quello che era il loro patrimonio culturale io mi sono anche arrabbiato molto una volta guardando una trasmissione alla tv israeliana perché appunto dicevano che l'arabo la lingua araba non è insegnata non è considerata obbligatoria nella scuola in realtà dovrebbe esserlo perché sono i nostri vicini dobbiamo conoscerli e dobbiamo anche conoscere la loro letteratura la loro cultura io ho chiesto espressamente che venisse pubblicato e tradotto in ebraico le poesie le opere di Mahmoud Darwish il più grande poeta arabo che sia mai esistito quindi manca spesso l'interesse nell'altro però sappiamo dalla psicanalisi quanto sia importante conoscere l'altro l'altro siamo noi noi ci rispecchiamo nell'altro e questo credo che sia il primo ostacolo anche quando si vuole fare guerra qualcuno bisogna conoscere basta reggere guerra e pace di Tolstoi quando si vuole la bataille di Borodino perché Kutuzov il generale russe comprende meglio che Napolion perché Napolion è a cheval il passe devant le legion e il dice allora noi siamo prati sì e e e sono prati per la guerra non pensi a una seconda chi è in face sono le prussi gli autrici gli italiani ce sono dei russi sono differenti ora Kutuzov è assi in l'isba il ha una carta il desplace le pion e il essaie di entrare nella tête di Napolion per comprendere come il va déplacer le legion il essaie di comprendere un franzai ma lui il parla franzai come tutta l'intelligencia russe parla franzai Napolion parla le russe e c'è Kutuzov che gagne quindi appunto si legge la descrizione della preparazione della battaglia di Borodina e Napoleone appunto si vede descritto a cavallo che passa davanti ai suoi alle legioni francesi e cerca di animarli siete pronti però non pensa non si mette nei panni dei suoi avversari dei suoi nemici non si chiede se siano prussiani austriaci italiani o forse pensa che siano loro invece sono russi mentre il generale russo si prepara muove le sue pedine le sposta sullo scacchiere ma al tempo stesso cerca di capire quale può essere la reazione e qual è la mentalità dei francesi lui parlava francese quindi facile forse perché comunque tutta l'intelligenza russa all'epoca conosceva parlava francese mentre Napoleone non sapeva sicuramente parlare russo la guerra tra palestinesi e israeliani che è quello che interessa a noi in questo momento per questo dobbiamo cercare di capire di metterci in primo luogo al loro posto nella loro testa e infatti Marec domani fa una manifestazione a Parigi in questo senso una manifestazione di dialogo insieme ai musulmani eccetera sui giornali francesi ieri c'era e stata pubblicata questo documento questa lettera dei direi dell'insieme delle comunità delle istituzioni musulmane di Francia in cui c'era una presa di posizione molto forte dicevano siamo anche noi degli sporchi francesi che voleva dire rispetto ai jihadisti guardate che noi ci consideriamo francesi e quindi la guerra la state facendo anche a noi ecco volevo chiedere queste manifestazioni questa presa di posizione così così significativa anche così emotiva forse non c'è mai stata così forte dei musulmani francesi può può essere utile appunto nella direzione che diceva lui del comprendersi l'uno con l'altro di rompere questo questo muro contro muro non c'è per questo che ci ha provoqué un debat in Francia noi le hommes e le femmine gentili come voi siete noi diciamo ai musulmani di Francia non parlare dei musulmani là-bas reagiscono montri che voi non non allora allora hanno fatto ci ha chiamato chiamato e d'un coup on dice ah non non come tutti gli francesi E quindi, appunto, la mia risposta è no alla sua domanda. In realtà c'è stato un ampio dibattito in Francia che è iniziato in seguito a questa idea di questa manifestazione. Appunto, le persone ben pensanti, uomini e donne, come noi, come voi, hanno appunto, accondiscendono ovviamente a questa idea di pacificazione. Però poi alcuni che hanno accettato, che hanno aderito, si sono sentiti dire, ma allora voi siete francesi, ma vi comportate come se fossero dei musulmani. E quindi c'è stata anche una contraddizione. Però dobbiamo anche pensare che i figli di queste comunità islami, musulmane, in realtà i figli ormai vanno nelle nostre scuole e studiano quello che studiano tutti gli altri, studiano la letteratura, Victor Hugo. Per questo motivo io ho organizzato per domani, alle 14.30, con l'imam di Parigi, una manifestazione per i francesi, dei francesi, quindi che siano cristiani, musulmani o ebrei. Perché bisogna rendersi conto ormai che il mondo è un mondo molteplice, non è certo più un mondo monoblocco, le frontiere sono aperte. E anche pensando a quello che sta succedendo con la Cina, penso che nessuno di noi possa pensare di poter un giorno bloccare i prodotti cinesi di importazione. E appunto, questo mondo è un mondo che ci obbliga a unirci, a capirci, e rispetto all'Islam, penso che siano soprattutto le popolazioni là, in questi paesi, in Iraq, in Arabia Saudita, che devono opporsi e nutrire questo desiderio di riconciliazione. Noi possiamo solo aiutarli. Ma per cambiare solo un momento, perché la citazione che ha fatto Marek di Tolstoi, e quindi della guerra di guerra e pace, della guerra tra Russia e Francia e Napoleone, mi fa venire in mente che in questo momento c'è un altro conflitto aperto che credo sia molto pericoloso. Marek ha preso anche posizione. Ecco, secondo lui ha preso posizione nel senso di un dialogo maggiore con la Russia e non di questo confronto che ha degli aspetti di vecchia guerra fredda un po' insensata. Ecco, secondo lei Marek, in questo momento l'Unione Europea e diciamo il mondo occidentale sta facendo nei confronti di Putin e del mondo russo lo stesso errore che fece Napoleone a Borodinon? Voi avete fatto una buona comparazione, bravo! Ottimo esempio e confronto! E c'è vero, l'Ukraine aveva un sol grande écrivain, Gogol, che è un'escrivain in russo. che è un'escrivain in russo per l'Ukraine, dell'Ukraine, che è un'escrivain in russo. come la lingua ufficiale non è l'Ukraine che fa parte dell'Europa, è la Russia che è molto più inserita nell'Europa. L'unico scrittore, l'unico vero scrittore importante dell'Ukraine è stato Gogol e è stato l'unico che scriveva in russo. Però, appunto, spingere forse l'Ukraine a staccarsi favorendo questo movimento di separazione dalla Russia è stato un segnale di non lungimiranza dei nostri dirigenti politici. E anche i dirigenti ucraini hanno per primi dato segno di poca intelligenza vietando, in primo luogo, lo studio del russo nelle scuole ucraine. Una piccola correzione, ma Rek ha detto che la Russia non è l'Ukraine che fa parte dell'Europa, ma è la Russia che fa parte dell'Ukraine. No, no, no. La Russia ha la storia dell'Ukraine e dentro la storia della Russia. Oui, ma è la Russia che fa parte dell'Europa, dell'istoria dell'Europa. L'Ukraine ha il diritto all'indipendente, anche che il Kosovo. C'era quoi il Kosovo? C'era una battaglia. Il y a cinque siècles, la dernière grande battaglia tra il mondo orthodoxo chrétien e l'islam. Kosovo. 200-300.000 morts. Come qua la mémoire collective è una bomba a retardament. Dei siècles più tardi, le persone del Kosovo hanno detto «Ni vogliamo un Età». Ils hanno un Età. Un paese indipendente, non lo so, ils hanno 500-600.000 abitanti. Donc l'Ukraine, qui est beaucoup plus grande, s'ils veulent avoir un Età, ils ont droit à un Età. Et appunto, l'Ucraina in realtà ha diritto all'indipendenza, come è stato anche per il Kosovo. Che cosa è successo? Che cosa è stato il Kosovo? È stata inizialmente una grossa battaglia, cinque secoli fa, in cui si sono scontrati i cristiani ortodossi e l'islam, i musulmani. Ci sono stati 200-300.000 morti. E questo fatto rappresenta ormai un elemento di una memoria collettiva che è quasi una bomba a scoppio ritardato. Quando è iniziata la rivolta, appunto, il Kosovo ha probabilmente riportato alla memoria questo fatto ormai antico. Comunque, attualmente il Kosovo ha la propria indipendenza. È un piccolo stato, 500.000, 600.000 abitanti e non di più. L'Ucraina, rispetto al Kosovo, è molto più grande, e ci sono anche molti più abitanti. Però ha diritto sicuramente anche lei all'indipendenza. Là, ancora una volta, l'America è un grande paese, un magnifico paese, ma la sua politica è stata sempre è sempre disastraire. Sempre disastraire. Non ne esqueci che ci si sta in Iraq è l'America. George W. Bush che ha menti al mondo entro per dire che Saddam Hussein aveva una bomba atomica i povori Powell i generali sympathici, noiri li vediamo ancora a l'ONU mostrando un piccolo come se in questo piccolo aveva il virus della peste ho qui la preuva che Saddam Hussein vuole détruire il mondo la Francia era il sol paio a s'opposare e abbiamo fatto la guerra e abbiamo destabilizzato la region abbiamo fatto uccidere degli americani abbiamo fatto uccidere molti iraciens e poi i iraciens uccidere i iraciens, i chiites, i sunnites i sunnites, i chiites e oggi abbiamo le djihad ci sono per dire merci a l'amiria per la pentagonia l'effet che il comunismo ha disparito per loro n'è ne change la Russia è sempre l'ennemi numero uno vous savez Sartre qui ha detto beaucoup di cose intelligenti ha detto che chiun s'impose le bologna le bologna le bologna le bologna e dell'epoca dell'epoca Kennedy why come perché quindi appunto quello che bisogna dire rispetto a questo che l'America che è un grande paese un grande un grande popolo anche però ha sempre una grande debolezza nella sua politica estera fa sempre una politica estera disastrosa basta ricordarsi quello che è successo in Iraq con George Bush Junior che era arrivato addirittura a mentire a dire che avevano c'erano prove della presenza delle armi nucleari in mano a Saddam Hussein e ci sono ancora abbiamo ancora negli occhi le immagini di Powell il generale nero che è andato all'ONU portando un flaconcino dicendo che come se ci fosse dentro il virus della peste dicendo appunto che quella era la prova della presenza di armi di uccisione di massa in Iraq d'altronde appunto la forza la forza si manifesta spesso soprattutto la forza di un popolo nella sua capacità di opporsi le guerre sono molto spesso l'esito di queste destabilizzazioni a livello regionale come è successo appunto tra l'America e l'Iraq adesso il risultato però che dopo quello che è successo prima ci sono state le vittime americane irachene adesso gli iracheni si uccidono fra di loro iracheni contro iracheni sciiti contro sunniti e riappare la Jihad e questo lo dobbiamo alla politica estera americana d'altronde per il Pentagono una volta terminato finito caduto il comunismo non doveva esserci non c'era più nulla quindi come diceva Sartre che condivido come ci si può imporre a livello individuale ma anche a livello di paese un paese si impone opponendosi una persona riesce a dimostrare di essere intelligente soltanto se in grado di contrapporsi opporsi al proprio interlocutore e quindi non si può essere d'accordo e così appunto una volta finito il comunismo caduto il mondo di Berlino gli americani si sono dovuti trovare si sono trovati nella necessità di crearsi di trovarsi un nuovo nemico l'unione sovietica era per Antonomasia il nemico ma ora cosa stanno cosa continuano a fare stanno mettendo basi creando basi nato ovunque intorno alle frontiere della Russia quindi in Cicoslovacchia ovunque e compresa anche in Ucraina e perché la Russia dovrebbe accettare perché Putin per quanto io lo conosca ma non è per questo che gli do ragione perché Putin dovrebbe accondiscendere a questa opera di accerchiamento se pensiamo rispetto a lui a quello che era successo tra Kennedy e Khrushchev quando Khrushchev aveva messo delle basi aveva messo delle basi a Cuba e al discorso che poi ha fatto Kennedy in risposta e beh siamo arrivati quasi allo scoppio della terza guerra mondiale rispetto a questo Putin sembra quasi una persona gentile carina moderato e soprattutto sapendo che le basi che sono state messe create dagli americani in Ucraina hanno tutti i loro missili puntati su Mosca stiamo finendo Marek io tornerei all'inizio ci vorrebbe un grido adesso vuoi creare suona molto molto vicino quindi gridare e scrivere e quindi questo è il motivo per cui io scrivo appunto questo è il motivo per cui io scrivo scrivo perché così le persone mi invitano e a questo punto posso anche gridare oltre che scrivere grazie 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 grazie